nel quarto mistero doloroso vogliamo meditare il cammino di gesù al calvario carico della croce allora costrinsero un tale che passava un certo simone di cirene che veniva dalla campagna padre di alessandro e rufo a portare la croce condussero dunque gesù al luogo del golgota che significa luogo del cranio accettando nella sua volontà umana che sia fatta la volontà del padre gesù accetta la sua morte in quanto redentrice per portare i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce a avanze cammino fermi fermi Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!